Sanità parla il nuovo commissario ad acta Angelo Giustini, non ho sotto gli occhi le problematiche del Molise e non so quando sarò da voi. Ieri al Ministero della Salute, prima riunione che il Generale della Finanza ha definito ai microfoni di teleregione formale. Prendono a sprangate un netturbino e un tassista in manette a Bologna, un trentenne del posto e un 22enne di Campobasso, nei guai anche una ragazza di 28 anni. Spada e Casamonica davanti ai giudici, domani e venerdì gli interrogatori di garanzia delle persone arrestate dai carabinieri nell'operazione Last Dose 2. Il procuratore Fucci, fenomeno dello spaccio preoccupante in provincia di Sernia. Finisce in una pozza di fango e rimane intrappolato, momenti di terrore oggi pomeriggio a Mirabello per un cacciatore di 76 anni salvato dai vigili del fuoco di Campobasso. Scuole sicure a Sernia, inaugurate la San Pietro Celestino e il nuovo plesso di San Leucio. Per la preside Mariella Di Sanza si tratta di una giornata storica, ma il collega Caccioppoli incalza l'amministrazione. I lavori all'ex centroanziani di Via Umbria ancora non partono. Infine lo sport il calcio, seconda vittoria consecutiva per il Campobasso, Musetti manda al tappeto l'avezzano. Pari beffa per l'Isernia alle piane contro la San Maurese, l'Agnonese sbanca Pineto. Ben trovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale, lo avete sentito, in apertura ci sono le prime dichiarazioni del commissario ad acta, il generale della finanza Angelo Giustini. Lo abbiamo contattato telefonicamente perché ieri c'è stato un primo incontro al Ministero della Salute, mancano ancora dei passaggi burocratici, ma adesso il suo incarico sta per entrare nel vivo. Sentiamo allora le sue prime parole nell'intervista di Pierluigi Boragine. Aspettando Godot cita una delle più importanti opere teatrali di Samuel Beckett, il presidente della regione Donato Toma, parlando del nuovo commissario ad acta per la sanità molisana. Angelo Giustini ha ufficialmente accettato l'incarico e ieri pomeriggio ha avuto una prima riunione a Roma presso il Ministero della Salute. Allora, niente, ieri c'è stata una prima riunione al Ministero e ce ne sarà un'altra, adesso la data non mi è stata comunicata, però sarà mia premura a comunicarla, ecco, tutto qui. Incontro che il commissario definisce formale preparatorio di altro vertice ancora da stabilire, nel quale probabilmente si inizierà ad entrare nel merito della questione per intervenire in un settore che da anni naviga a vista. Non ho la più pallida idea perché, ripeto, è stata una riunione, diciamo così, di carattere formale, mi segue? Quindi, diciamo, dalla formalità all'applicazione del tutto, no, di quello che mi stai chiedendo, sinceramente, che devo dire? Non so inventare tutto qui. L'esordio in Molise non è stato ancora fissato, non si sa quando il nuovo commissario sarà fisicamente in regione per toccare con mano le difficoltà della sanità da risanare e da riprogrammare. Il 65enne generale della Guardia di Finanza in congedo ammette di non avere il caso Molise sotto gli occhi. Non ho sotto gli occhi la problematica, ecco, tutto qui. Quando me la mostreranno sarà mia premura dare l'esplicitazione che mi stai chiedendo. Dunque ci vorrà del tempo, speriamo decisamente più breve rispetto a quello che il Governo ha impiegato per nominarlo. Aspettando Godot, passa alla Camera l'ordine del giorno di Rosalba Testamento, Movimento 5 Stelle, per la riapertura dei pronto soccorso degli ospedali di Larino e Venafro. E ora parliamo dell'attacco terroristico avvenuto intorno alle 8 di ieri a Strasburgo. Sapete, ci sono delle vittime, ci sono dei feriti gravi, tra cui anche un giornalista italiano. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente l'eurodeputato Aldo Patriciello che si trovava proprio in Parlamento in quei momenti. Sentiamo che cosa ci ha detto. Tre morti, 13 le persone rimaste ferite, 9 delle quali sono gravi. Tra queste c'è un giovane giornalista italiano, Antonio Megalizzi. Le autorità francesi hanno trovato del materiale esplosivo nell'abitazione dell'attentatore, che era già stato condannato altre 20 volte per reati comuni. In tutta la Francia è stato innalzato il livello di allerta al grado di emergenza attentato, con il controllo rafforzato dei confini a Strasburgo ieri sera. C'era anche l'onorevole Aldo Patriciello. Sta bene, anche se ovviamente scosso, con lui i suoi collaboratori. Crediamo che io, contrariamente a molti altri colleghi, l'ho vissuta con maggiore serenità, perché quando si è verificato l'attentato ero nel Parlamento, per cui sono scattate le misure di sicurezza e di conseguenza il Parlamento è stato isolato dalla polizia, quindi non si poteva né uscire né entrare. Siamo stati bloccati fino alle 3 stanotte, poi man mano hanno accompagnato i singoli parlamentari presso gli alberdi dove aveva la propria manlocazione. Mentre molti colleghi hanno vissuto più in prima persona una situazione drammatica, perché in questo periodo Strasburgo è la città dei mercativi, per cui era un suo fascino, allora erano, a maggior parte, molti con familiari, con amici, a visitare i mercadini per un momento cruciale, per cui la preoccupazione da tanti altri parlamentari è stata ancora più forte. Una problematica che si ripropone e che continua a mietere vittime innocenti. Cosa può fare l'Unione Europea? L'europarlamentare di Forza Italia parla di prevenzione e annuncia che nella prossima programmazione l'Europa destinerà più risorse al settore della sicurezza. Ma in anni se ripropone c'è un aspetto molto significativo, che non so, c'è questa casualità o c'è qualche motivo, che l'11 è una data nel mese, è una data molto ricorrente nei singoli attentati, partendo dagli Stati Uniti, un po' in Londra e così via. Cosa si può fare? Far crescere più la contratevolezza, che la sicurezza è uno degli obiettivi principali. Infatti nella prossima programmazione dell'hotel il Parlamento metterà più risorse proprio sul tema sicurezza dei paesi. è molto sulla prevenzione, prevenzione e chiaramente maggior determinazione quando si rende le responsabilità accentuare le pene. In merito a quanto accaduto nella città francese, si registra il commento del Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, l'ennesimo vile attacco terroristico, dice l'esponente dell'Assemblea regionale. Un nuovo attacco a una città francese, ancora ai mercatini di Natale che accolgono turisti pacifici e famiglie serene. Come Assemblea consigliare esprimiamo solidarietà e vicinanza alle vittime e ai feriti ribadendo sostegno alle istituzioni europee e in particolar modo al Parlamento che, come dichiarato dal Presidente Tajani, non si farà certo intimorire o fermare nel suo percorso di difesa dei valori e dei principi dell'Europa e dei suoi abitanti. Sappiamo infatti che Tajani non ha sospeso le attività dell'Assemblea parlamentare volutamente dopo quanto accaduto. Ed ora passiamo alla cronaca, un episodio che è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi che ha tenuto col fiato sospeso sia la persona coinvolta sia la sua famiglia, ovvero un cacciatore di 76 anni che è stato soccorso a Mirabello Sannitico, incontrato a Piane dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso. Cosa era accaduto? State vedendo le fotografie. L'anziano stava andando a recuperare una preda che aveva appena cacciato quando è rimasto letteralmente intrappolato in una pozza di fango, una sorta di sabbie mobili da cui non riusciva assolutamente ad uscire. La moglie ha allertato immediatamente il Comando Provinciale dei Pompieri, i vigili del fuoco sono giunti prontamente sul posto, hanno allestito una passerella e una piattaforma e sono riusciti a tirarlo fuori e a trarlo in salvo. Gli uomini sono stati coordinati dal caposquadra di Domenico, l'anziano era in buona salute, non è stato necessario neanche l'allerta al 118. Ebbene, tra domani e venerdì in carcere e in tribunale a Isernia si svolgeranno gli interrogatori di garanzia dei pusher arrestati nella maxi-operazione condotta all'alba di ieri dai carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, l'operazione Last Dose 2. Il fenomeno dello spaccio sul territorio pentro è preoccupante. Queste le parole del procuratore capo della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci. Sono in programma nelle prossime ore in tribunale ed in carcere a Isernia gli interrogatori di garanzia nei confronti delle sei persone arrestate ieri mattina dai carabinieri del Comando Provinciale nell'ambito dell'operazione denominata Last Dose 2. Gli uomini dell'arma, coordinati dalla procura di Isernia, hanno inferto un duro colpo allo spaccio di droga in provincia attraverso un lavoro certosino durato diversi mesi. A finire Manette, Pino ed Anna Norma Spada, Enrico e Giovannina Spada, Giuseppe Spada ed Eleonora Casamonica, figlia di uno dei boss più influenti della capitale. Al di là della soddisfazione per il buon esito dell'operazione, il procuratore Fucci ha espresso preoccupazione per le dimensioni del fenomeno droga sul territorio pentro. Compravano cocaina, alcuni marioiana, alcuni ascisci, però arriviamo a 50 in alcuni casi euro per dose, il che significa che per soldi familiari o ottenuti in altro modo avevano disponibilità di denaro. La consistenza e l'importanza di questa rete, al di là del cognome delle persone che richiamano gruppi criminali di Roma, eccetera, è data dal numero, ripeto, dell'eccessione e dalla continuità quotidiana per lunghi periodi dell'attività di spazio. Cioè la loro professione, la loro attività. Vendevano morte ogni giorno. Centinaia, gli assuntori che si rivolgevano alle famiglie Rom di Venafro per rifornirsi di stupefacenti. Molti, peraltro giovanissimi, divenivano a loro volta pusher, gestiti dal clan per la distribuzione capillare della droga sul territorio. Sì, abbiamo potuto acclarare come in qualche caso si rifornivano dai soggetti oggi arrestati persone che a loro volta poi vendevano la droga, in particolare cocaina, ai loro coetani nell'ambito cittadino. I carabinieri sono riusciti a dimostrare che almeno in una circostanza un testimone è stato condotto forzatamente in procura per sporgere denuncia nei confronti dell'arma dei carabinieri. L'obiettivo, evidentemente, era di rendere vulnerabile il quadro accusatorio nei confronti dei tre nuclei familiari finiti al centro dell'inchiesta. C'è stato anche il tentativo di indurre una persona che ha collaborato nelle indagini a denunciare alla Procura della Repubblica inesistenti vestazioni o minacce che avrebbe subito dai carabinieri ovviamente per far sì che la propria dichiarazione non avesse più un valore probatorio ma questo è stato evidenziato nel corso delle indagini per cui questa persona è stata anche denunciata per calugna nei confronti dell'arma. C'è anche un giovane di Campobasso tra gli arrestati a Bologna per la brutale aggressione nel centro cittadino a un operatore ecologico e a un tassista state vedendo proprio in queste immagini il tassista che si è fermato per soccorrere il netturbino che in quei momenti veniva aggredito da quattro persone tra cui una donna ne ha fatto le spese anche lui perché come vedete è stato aggredito anche egli come si diceva tre ragazzi e una donna due sono stati arrestati devono rispondere tutti di lesioni aggravate e tra queste quattro persone c'è un 22enne che è nato a Campobasso quindi dovrà rispondere anche lui di questo gravissimo episodio di violenza. Sempre per la cronaca un'auto è finita in un dirupo nella tarda mattinata di oggi e si è ribaltata come vedete in queste foto l'incidente è avvenuto a Sepino nei pressi del convento alla guida della Focus c'era una donna che è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale a Campobasso non è in pericolo di vita sul posto i vigili del fuoco che come vedete con un autogru hanno tirato su l'auto fortunatamente la donna non ha riportato gravi ferite i rilievi sono affidati ai carabinieri di Boiano che sono giunti anche loro prontamente sul posto Giovani agnonesi denunciati per furto d'auto il veicolo era stato sottratto al proprietario alcuni giorni fa nel piano centro della città tomolisana e le immediate indagini condotte dagli uomini in divisa hanno permesso di individuare i responsabili e anche di ritrovare il mezzo i due ragazzi appunto sono stati denunciati in queste ore inoltre i militari dell'arma stanno eseguendo a largo raggio dei controlli del territorio con l'impiego di numerose pattuglie delle stazioni e del nucleo radiomobile con particolare attenzione al contrasto delle attività illecite legate allo spaccio di droga l'attività preventiva ha riguardato soprattutto le scuole dove con l'ausilio delle unità cinofile dell'arma sono stati condotti accertamenti sia all'interno delle classi che nelle aree che potrebbero rappresentare luoghi interessati dal consumo e dalla vendita di sostanze da parte dei giovani Cambiamo argomento adesso passiamo alla politica Francesco Boccia è il primo candidato ufficiale al congresso del PD arrivato nella sede di Roma al Nazareno ha presentato 2000 firme raccolte in tutte le regioni italiane e sottoscritto ufficialmente la candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico in Molise ne sono state raccolte 128 il regolamento prevede la presentazione di un numero di firme da 1500 a un massimo di 2000 in almeno 5 regioni domenica 3 marzo come è noto gli elettori del PD saranno chiamati a votare i candidati alla segreteria nazionale del partito hanno annunciato la loro partecipazione Nicola Zingaretti Cesare Damiano Dario Corallo l'ex ministro Marco Miniti che però come sappiamo si è ritirato dalla competizione e il segretario uscente Maurizio Martina Contributi per le tv locali l'onorevole Riccardo Nencini ha presentato un'interpellanza al presidente del Consiglio dei Ministri Conte con il mille proroghe si legge nell'interpellanza il governo ha modificato per legge il nuovo riparto dei fondi nazionali delle tv locali tale riparto è stato strutturato con un criterio basato sull'audience che privilegia di fatto le grandi realtà e punisce quelle minori zittisce quelle più piccole come il Molise e la Valle d'Aosta nell'interpellanza Nencini chiede se nelle intenzioni del governo intervenire per correggere tale mulnus ha un fondamentale diritto costituzionale e come intende procedere per rivedere o riequilibrare l'intervento l'associazione della stampa del Molise ha rimarcato oggi l'intervento del leader dei socialisti ex ministro e ha ringraziato Filippo Poleggi per aver promosso questa iniziativa parlamentare ed ora torniamo ad Isernia dove questa mattina sono state inaugurate due scuole il nuovo plesso San Leucio di via Umbria e la San Pietro Celestino che da qualche mese è stata allocata nell'ex quinto settore nella zona dell'acqua solfurea una giornata storica per la preside Mariella Di Sanza presente alla cerimonia però anche il suo collega Bruno Caccioppoli che ha detto ben vengano queste cerimonie ma i lavori all'ex centro anziani dovrebbero partire immediatamente il suo appello sentiamo la preside della San Giovanni Bosco Mariella Di Sanza e l'amministrazione comunale di Isernia hanno voluto organizzare una mattinata di festa per celebrare i due nuovi immobili che sono stati consegnati alla città alla vigilia dell'anno scolastico si tratta del nuovo plesso di San Leucio e della San Pietro Celestino in località Acqua Solfurea per il sindaco il nuovo edificio di via Umbria è l'opera pubblica più importante inaugurata a Isernia negli ultimi anni allora intanto oggi è una giornata per noi di grande soddisfazione non tanto per dare lustro all'attività della politica ma essenzialmente perché la nostra città ha acquistato una struttura ha acquisito una struttura di rilievo importante un'opera pubblica importantissima forse la più importante dell'ultimo ventennio che mette a disposizione una struttura intanzitutto assolutamente sicura ma poi funzionale diciamo anche con un altissimo coefficiente di affidabilità sotto il profilo anche energetico quindi noi insomma siamo soddisfatti per il lavoro che è stato fatto peraltro in tempi molto ristretti visibilmente emozionata la preside Mariella Di Sanza dopo l'apprezzione dello scorso anno per le condizioni dell'Andrea Di Sernia e dopo aver peregrinato a lungo a seguito della chiusura della San Pietro Celestino è finalmente riuscita a garantire due sedi sicure ai suoi ragazzi sì in effetti oggi abbiamo deciso di inaugurare entrambe le scuole la prima appunto questa del nuovo polo che in effetti avevamo già aperto al territorio ai genitori nelle giornate dell'open day che abbiamo fatto a settembre l'inaugurazione ufficiale anche della scuola di San Piero Celestino che adesso funziona al quinto settore una struttura per la verità bellissima con un bel verde con un giardino assolutamente idonea ad accogliere i nostri bambini con un corpo docente all'altezza della situazione all'altezza del compito io credo che per valorizzare quella struttura è necessario ora agire sul sistema dei trasporti scolastici all'inaugurazione del nuovo plesso di San Leucio ha partecipato anche il preside della Giovanni XXIII Bruno Caccioppoli che ha però voluto sollecitare l'amministrazione comunale per l'ex centro anziani all'interno del quale ancora non partono i lavori io faccio le mie congratulazioni alla preside di Sanza e le auguro veramente un lavoro un ottimo lavoro in un plesso che veramente si presenta all'avanguardia sotto tutti i punti di vista dall'altro lato però mi sento di rivolgermi direttamente al sindaco per chiedergli con forza che i lavori al centro anziani comincino perché siamo in prossimità dell'inizio delle iscrizioni e se non dovessero cominciare i lavori veramente potrebbe verificarsi lo stesso problema dell'anno scorso con delle famiglie spaesate non certe delle sedi per le iscrizioni e quindi veramente questo sarebbe un serio danno ma non soltanto alla Giovanni XXIII ma almeno credo alla città di Sernia perché di Sernia ha un bacino di utenza tale per cui c'è bisogno di due scuole due scuole per la popolazione di Sernia il sindaco ha voluto tranquillizzare Bruno Caccioppoli l'iter burocratico per l'affidamento dei lavori è concluso e dentro Natale aprirà il cantiere finalmente sono stati consegnati i lavori da qualche giorno quindi aspettiamo che l'impresa materialmente che sta studiando il progetto intervenga sul sito e possa partire io stesso ho preso contatti per spingere l'impresa ad iniziare nel più breve tempo possibile segnalando l'urgenza di una scuola che deve ritornare nel più breve tempo possibile nel sito originario quindi ho avuto la massima disponibilità il massimo impegno dell'impresa che è peraltro un'impresa cittadina che cercherà di dare delle risposte adeguate io conto molto su questo ma noi ovviamente non staremo a guardare spingeremo quindi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto Per l'assegnazione dei fondi al comune di Isernia bisogna aspettare la determina di liquidazione ma la strada intrapresa con lo sblocco delle risorse destinate all'acqua solfuria è sicuramente quella giusta così l'assessore regionale all'urbanistica Roberto Di Baggio che ha tracciato lo stato dell'arte dell'opera di riqualificazione che dovrà iniziare appunto nello storico impianto di acqua termale di Isernia Ammonta 768 mila euro la cifra recuperata dalla regione per la valorizzazione del sito acqua solfuria a Isernia un primo passo è stato fatto nell'assegnazione dei fondi all'amministrazione da Pollonio ne servono altri spiega l'assessore all'urbanistica della giunta Toma Roberto Di Baggio Manca ancora il controllo di primo livello che dovrà essere effettuato dopodiché va fatta la determina di liquidazione e quindi il pagamento al comune siamo nella direzione giusta dello sblocco di tali fondi dopo anni che il sito è chiuso finalmente possono ripartire i lavori in quanto l'impresa li bloccò proprio perché non era stata pagata adesso per fine anno contiamo che il controllo sia positivo da parte degli organi dello Stato e quindi dopodiché i dirigenti faranno la determina di liquidazione e si provvede al pagamento al comune speriamo anche di ritrovare altre risorse perché ciò parliamo di un progetto vecchio addirittura iniziato dal sindaco Melogli oltre a questi ci stanno altri problemi sia sul comune di segna per i soldi che sono andati in prevenzione per il campo sportivo ma in molti comuni di tutta la regione puntiamo quindi abbiamo fatto giorni fa una delibera per velocizzare lo sblocco di tali fondi e per renderli immediatamente esecutivi in modo tale da spendere il più possibile e non perdere i soldi e mandarli indietro come è stato fatto per il passato l'acqua solfure è considerata da sempre uno dei gioielli della città di Isernia su cui scommettere per rilanciare il turismo altrimenti resterebbe l'ennesima incompiuta un'occasione colpevolmente sprecata le risorse serviranno in parte a pagare all'impresa i lavori già realizzati in parte a completare il primo lotto che consiste nella sistemazione dell'area esterna nella realizzazione della piscina termale coperta e riscaldata del giardino pensile degli spogliatoi e del centro benessere un progetto che prevede addirittura delle piscine termali e quindi la gestione poi ai privati del sito dopo anni che il sito è rimasto fermo oggi addirittura pare che dall'ultimo accertamento si sia persa addirittura l'avena idrica quindi dell'acqua proprio solfurea che non esce più alla fontana quindi va sicuramente c'è bisogno di altre risorse per utilizzarlo poi al meglio stimolare azioni congiunte di monitoraggio e accrescere la capacità di reagire alle emergenze sismiche e idrogeologiche attraverso la condivisione di metodologie buone pratiche in grado di mitigare l'esposizione delle comunità italiane croate dell'Adriatico al rischio sismico è la mission del corso di alta formazione destinato alla protezione civile e a tutti i volontari che è stato illustrato in mattinata nella sala del parlamentino di Palazzo Vitale a Campobasso la regione ha infatti aderito a un progetto europeo di cui tra l'altro è capofila di circa un milione di euro che consentirà di formare ulteriormente tutto il personale chiamato a far fronte alle emergenze territoriali del Molise e non solo quindi oggi c'è stata la presentazione del progetto emergenza cinghiali l'assessore regionale Nicola Cavaliere annuncia l'approvazione della caccia di selezione in Molise i corsi partiranno tra circa un mese la regione ha detto Cavaliere ha ascoltato il territorio e mantenuto gli impegni primo passo importante in questa fase d'emergenza sentiamo Cristina Niro emergenza ongulati in Molise arriva il primo provvedimento della giunta regionale su richiesta dell'assessore Nicola Cavaliere che punta ad attenuare un fenomeno che in diverse occasioni ha creato danni e disagia alla popolazione incidenti stradali colture rovinate esposti e denunce da parte della cittadinanza impotente rispetto alla proliferazione disordinata dei cinghiali ora la giunta regionale ha approvato la delibera che istituisce la caccia di selezione al cinghiale la caccia di selezione vera e propria ipotizziamo che possa iniziare dal primo aprile fino al 31 agosto o addirittura al mese di settembre ma sarà una valutazione successiva con gli ATC e magari anche con le componenti addette ai lavori l'organizzazione dei corsi per essere abilitati sarà curata direttamente dagli ambiti territoriali di caccia in particolare da quello di Campobasso e gli operatori sono già al lavoro per avviare la formazione a gennaio credo che saranno molte le adesioni quindi da quello che ho capito gli ATC vorranno partire da subito e quindi prenderanno man mano che arrivano le domande e inizieranno quelli ad avere maggiore priorità ma tutti parteciperanno al corso che sarà in una fase didattica venatoria faunistica e l'altra parte un'abilitazione allo sparo per quanto riguarda il poligono io credo che sia una prima iniziativa la regione Molise era l'unica regione che non aveva questa gestione della caccia di selezione non sarà sicuramente la soluzione dei problemi una mitigazione lo sarà infine tutti gli interessati potranno dunque consultare le informazioni utili sui portali online dei tre ATC regionali una cosa è certa che anche il singolo agricoltore il processore di un terreno che è munito di licenza di caccia e parteciperà al corso potrà difendere il proprio orto la propria tenuta agricola utilizzando questa forma che abbiamo messo in campo Ominicchi Vigliacchi così il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca ha definito i responsabili dello sfregio alla statua di Carlo Cappella che è stata inaugurata a Termoli solamente una settimana fa per il primo cittadino non basterebbero le telecamere al fine di prevenire atti vandalici ma occorre più controllo sociale sentiamo Giovanni Cannarsa tre statue del valore commerciale di quasi 45 mila euro per ricordare i termolesi illustri prima quella di Benito Iacovitti fumettista conosciuto in tutto il mondo poi quella di Gennaro Perrot illustre greciste ed insegnante ed infine quella di Carlo Cappella artista e poeta termolese più conosciuto in città che altrove un percorso voluto dall'amministrazione comunale per abbellire le vie del centro eppure qualcuno non la pensa così la statua di Iacovitti viene usata come un cestino quella inaugurata una settimana fa che si trova alla fine del corso nazionale invece deturpata nel peggiore dei modi sfregge la statua di Carlo Cappella danneggiamenti visivi e morali un oltraggio da parti di chi nelle sere fredde d'estate e d'inverno non ha altro da fare un atto di vandalismo stigmatizzato da tutti si tratta di ominichi vigliacchi ha detto il sindaco Angelo Sbrocca è un vile atto di vandalismo fatto da come io li ho definiti diciamo prendendo una definizione di sciascia ominichi perché sono veramente degli ominichi vigliacchi che riescono a rovinare qualcosa che è molto vicino ai termolesi e molto caro ai termolesi come poteva essere la statua di Carlo Cappella da poco posata in opera lì alla fine del corso credo che sia una cultura che bisogna combattere perché è una cultura che non sappiamo da chi è stata poi alterata questa questa statua se si tratta di una bravata di ragazzi o di persone più più grandi ma comunque sia è un atto che non fa onore alla città di Termoli e sicuramente credo che bisogna prendere i responsabili e non dare delle punizioni fine a se stesso ma far capire loro e a tutti i ragazzi gli uomini di queste donne di questa città che non si può e non si deve assolutamente vandalizzare beni che sono beni comuni e cioè di tutta la cittadinanza L'amministrazione comunale farà riparare a breve la statua ma si pone il problema della tutela di questo patrimonio della città i residenti sono tornati a chiedere controlli e videosorveglianza ma per il sindaco sono altri deterrenti da utilizzare contro i vandali la risoluzione del male è culturale insegnare nelle scuole insegnare dappertutto e noi istituzioni dobbiamo essere parte diciamo principale in questa in questa diffusione di questa cultura antivandalismo perché credo che le telecamere possono sì fare qualcosa ma molto spesso sono persone dal volto coperto e che quindi di difficile individuazione l'altra cosa che invece a cui credo molto è il controllo sociale cioè tutte le persone che vedono debbono denunciare nel più breve tempo possibile alla polizia municipale o alle forze dell'ordine o tutte le forze dell'ordine in maniera tale da poter subito individuare quali sono e chi sono questi soggetti ed ora è il momento del meteo vediamo che tempo farà nelle prossime ore queste le previsioni per giovedì 13 dicembre una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione determinando molte nubi sin dal mattino con tendenza a peggioramento dal pomeriggio deboli piogge sparse nello specifico nubi in progressivo aumento alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli molto nuvolosi ecco le temperature campobasso meno 1,6 isernia 4,7 termoli 9,10 venafro 4,8 ed ora qualche istante di pausa ma restate con noi perché tra poco c'è la pagina sportiva due vittorie e un pareggio per le molisane di serie D a tra poco a tra poco ed eccoci ed eccoci tornati in studio si è giocato oggi il turno infrasettimanale della serie di terz'ultima di andata diciassettesima di campionato ed è arrivata contro Lavezzano la seconda vittoria consecutiva per il Campobasso vediamo seconda vittoria consecutiva quarto risultato utile di fila il Campobasso batte 1-0 Lavezzano e continua a scalare la classifica sorride Massimo Bagatti che schiera i suoi col 4-3-1-2 con Giacobbe alle spalle di Musetti e Alessandro avruzzesi da Berciate e con dietro una linea 5 ma capaci di imbrigliare la manovra dei Lupi nella prima frazione di gioco Lavezzano in avanti al nono Lobello trattiene Deramo l'arbitro lascia giocare dall'altra parte ci prova Marchetti colpo di testa debole e centrale alla mezz'ora ancora Deramo potrebbe portare il suo invantaggio sposito e provvidenziale decisivo sull'altro fronte il collega Fanti che mura Alessandro che rispetta gli altri ha una marcia in più nella ripresa in campo c'è un Lupo con le idee più chiare che inizia a macinare il gioco anche grazie ai cambi in particolare Cogliati che dà più verve e gamba al settore offensivo decide come sempre Bomber Musetti 4 gol in altrettante uscite l'attaccante sblocca il risultato con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo che giunge al termine di una ripartenza contestata dagli abruzzesi perché la palla sarebbe uscita sontuoso lo stacco dell'attaccante Fanti questa volta non può farci nulla Lavezzano si fa vedere solo lo scadere la difesa russo-blu pasticcia besena liscia clamorosamente in contropiede il campo basso potrebbe dilagare più volte i ragazzi di Bagatti sfiorano il raddoppio Musetti è incontenibile ma si fa ipnotizzare dal portiere ospite per non parlare di Cogliati che semina il panico in zona Cesarini super avversari come Berilli anche il portiere ma la sua conclusione viene fermata da un avversario sulla linea di porta vince il campo basso che si prepara alla difficile trasferta di domenica a Matelica e grazie a questa vittoria il campo basso sale 17 punti si porta fuori dalla zona play out mentre Lisernia resta nella zona rossa dopo il pareggio maturato oggi all'Ancellotta contro la San Maurese per 1 a 1 una vittoria che è durata fino all'ottantesimo che poi si è trasformata nel pari vediamo Una vittoria sfumata nei minuti finali per Lisernia che fino al novantasettesimo credeva di aver ottenuto il successo grazie al gol all'ottantesimo di Ciccone ma con un calcio d'angolo dubbio e un presunto fallo di mano la San Maurese è pervenuta all'1 a 1 è comunque il terzo risultato utile consecutivo per i pentri che domenica affronteranno il Franca Villa in trasferta poi ci sarà l'ultima del girone d'andata il 23 in casa con la capolista Matelica andiamo in cronaca a vedere cosa è successo all'Ancellotta in questa diciassettesima di campionato primo turno infrasettimanale casalingo per i pentri mister Silva butta nella mischia dal primo minuto gli ultimi arrivati il difensore Nicolas Lenoci e l'attaccante Antonio Petitti che ha scontato le due giornate di squalifica e ha fatto da subito la differenza infatti nei primi minuti il centravanti Baresi raccoglie il passaggio di Fazio da calcio piazzato e colpisce il palo sulla ribattuta Romano non è fortunato il difensore Romagnolo spazza via la palla sulla linea gli ospiti si vedono dopo qualche minuto all'ottavo la palla inattiva Rosini però manda in cielo ancora Petitti al ventitresimo con un tiro dalla distanza ma il portiere Baldassarri agguanta sicuro al trentunesimo punizione insidiosa di Fazio dalla sinistra il portiere ospite si invola e devia la sfera ancora l'attaccante dell'Isernia Petitti pericoloso al trentacinquesimo con un tiro sempre dalla distanza in corsa arriva il portiere e si impossessa del pallone nella ripresa il ritmo cala poche le emozioni e così le occasioni al sessantasettesimo c'è la San Maurese in avanti che va vicino al gol con Pieri di testa ma nulla di fatto per lui grazie a Tano la vera emozione c'è con il vantaggio dei Pentri all'ottantesimo rimessa laterale dalla destra la palla arriva in area Ciccone si inserisce tra i centrali e di testa insacca l'uno a zero grande entusiasmo allo stadio Lancellotta gli ospiti cercano di reagire c'è Dioppa all'ottantaseiesimo ma viene anticipato e non riesce a raccogliere il cross del compagno gli riesce invece questo colpo al novantatreesimo in pieno recupero sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'attaccante subentrato in corsa l'attaccante della San Maurese fa uno a uno tra le proteste della tribuna e della panchina di casa delusione amarezza tra i pentri ma non c'è tempo di adagiarsi perché domenica si torna già in campo contro gli abruzzesi del Francavilla e ora a 17 punti anche l'Olimpia agnonese che oggi ha vinto e convinto e il nuovo pezzo pregiato dell'attacco Loris Formuso si è sbloccato segnando il gol il Pineto interrompe bruscamente la serie positiva che durava da ben quattro turni con altrettanti successi cede all'agnonese grazie al gol messo a segno dall'attaccante Formuso per la prima volta dall'inizio dopo aver esordito con i molisani domenica scorsa negli scampoli finali nel derby con Lisernia della quercia tenuto precauzionalmente a riposo da mister Amaolo dopo lo scontro fortuito del Fadini che lo aveva costretto a lasciare il campo e al ricovero in ospedale agnonese con i due nuovi acquisti albanese appunto Formuso utilizzati dal primo minuto moduli speculari 4-3-3 Pineto apparso sottotono lontano parente di quello visto tre giorni fa a Giulianova Marianeschi non è in giornata ma è un po' tutta la squadra a soffrire manca un vero direttore d'orchestra e ne è a mezzo al campo Amadio prova a dettare i tempi a tratti ci riesce anche il vantaggio molisano arriva al ventitresimo Fargione potrebbe fare meglio sulle tiro di Peic la sfera resta nell'area piccola Formuso si avventa come un falco per spingerla in fondo al sacco da questo momento in poi i bianchi azzurri faranno fatica ad arrivare dalle parti di Kuzmanovic anzi rischiano di offrire il fianco all'avversario Formuso terminale offensivo degli ospiti è bravo a dialogare con Javò e Antonelli ma anche molto concreto quando si tratta di giocare spalle alla porta Pineto pericoloso al 34esimo su angolo di Marianeschi ma Zey non trova il bersaglio nella ripresa mister Amaolo lascia negli spogliatoi Marianeschi e presenta subito Esposito la fase offensiva dei locali ci guadagna perché il baricentro viene spostato in avanti di una decina di metri il possesso palla è costante proprio Esposito spaventa l'estremo ospite dopo pochi minuti le ripartenze Granata rischiano però di fare male a Pepe e compagni il pallonetto di Peic viene letto bene da Fargione il pallino di gioco è comunque nelle mani del Pineto che però fatica a trovare gli spazi giusti perché l'agnonese squadra ordinata nella fase difensiva è pronta ad innescare il contropiede sorgente all'occasione del 2-0 ma la sciupa Amaolo getta nella mischia anche di Rocco che poco dopo il suo ingresso in campo ha una buona occasione Kuzmanovic smanaccia in qualche modo nelle battute finali prima i padroni di casa si divorano il pari con l'incornata di Pepe poi Salifu all'occasione per chiudere definitivamente i conti e infine la bordata di Villanova viene respinta dal portiere ospite da registrare al 43esimo il cartellino rosso sventolato ad Amadio che avrebbe spintonato un avversario Pineto che resta al quarto posto in classifica mentre l'agnonese è in piena corsa per la salvezza diretta bene vi ricordo che questo servizio così come i nostri telegiornali potete rivederli sul sito www.teleregionemolise.it è tutto grazie per averci seguito e arrivederci grazie per averci seguito